...che gli darà alcuni elementi un po' più speciali. Grazie, grazie. Mi dispiace che lei non possa intervenire perché negli Stati Uniti come potrebbe avere potuto portare un po' di quell'umore autentico che si rispira a due parti, comunque. Nelle altre occasioni che facciamo uscire, è sempre una odessa. Io vi dico velocemente, noi quest'anno di fatto abbiamo fatto investimenti estremamente importante, il nostro economico indipendente. Voi sapete che fare nel frasciuticolo di oggi spendere non meno di 60-70 in anore sono tanto per il rischio, poi c'è tutto il resto. Noi abbiamo comunque deciso, con uno sforzo economico straordinario, di far sì che poche aziende, 10 o 10 aziende, potessero di fatto essere ospiti, perché noi con 5.000 dollari, che sono circa 4.000-3.600 euro, la professione ancora al cambio, esserci. Con 5.000 euro diamo anche il viaggio a Dall'Evrono, da Roma e da Milano con un pernotamento di quattro notti a Manatta. Cioè in sostanza l'opportunità di essere lì, direi da noi visti questo momento, a grande modo internazionale, essere in conferenza stampa, incluire di tutto il circuito che è rifatto, con il livello di diversamente costretto, molti molti soldi. Il discorso di finimento che ha fatto Roberto, apposito a Mercedes-Benz, è estremamente importante, perché noi abbiamo iniziato a febbraio, quindi a 14 con questa formula, e la stessa formula è stata cavalcata da Mercedes, che ci ha chiamato a degli eventi di chiusura, quindi di fatto quello che a Mercedes ha costato 2.500 euro, ma questa altaparte costa 100.000 dollari. Ora però questa è un'operazione che ovviamente andrà a finire, a settembre faremo questo tipo di operazioni, con altri trend, saranno 10, 12 trend, non di più. Nel 2015 i nostri clienti li porteremo a queste condizioni e con noi condivideranno questo progetto che andrà avanti sempre condizioni stragevolate, perché poi nascono un rapporto di interessi reciproci tra noi e loro, tutti gli altri, al contrario, se forranno partecipare a New York, non decidiamo noi, oltre a decida, in Italia, in Interfersion Week, non hanno messo il risultato, già nel 2015 lo dico, c'è un ufficiale intorno ai 85.000 dollari soltanto per valutare. Ora, perché questo è il ragionamento? Perché Maria comunque fatta una versione, credendoci molto, investendo soldi, potete immaginare quanto, perché capite da soli, seduti renditori e professionisti, quando abbiamo praticamente, non lo so, pagato in tutto da lutto, non abbiamo pagato nulla, c'è troppo in tutti i resti. Avremmo comunque voluto anche proporre, su una doppia piattaforma, questa operazione nel 2015. Abbiamo però deciso che non continuo a metterla, ma io devo fare un ragionamento molto franco e molto pratico. Inizialmente con Assorelli, che è protagonista, abitato in questa operazione, per me, come per parte a Piri Leggiano, che abbiamo parte di istituzionali molto forti, perché abbiamo fatto un lavoro incredibile. E parlando di rete, ho comunque immaginato fino dall'inizio, possiamo utilizzare delle dirette costituzze, due, tre, quattro, tre, piccoli, che potrebbero eventualmente, con un unico cappello, utilizzando la strategia del name by name, realizzare un'edichetta dedicata per quel paese. praticamente con mille euro a testa, per il proprio tutto, inizia un'avventura straordinaria. Cioè, pensate che cosa dovrebbe significare, stimolati dal concetto di rete, partendo da una rete, da un'epidemia veritaria, che già attraverso noi, comunque, permetta, ovviamente, se ci sono le sostanze contenute, c'è il prodotto, questo è fondamentale, di fare un ragionamento razionalizzato e serio. Bene, noi poi, alla più fine, abbiamo individuati, i 10 prende, che ci interessano, adesso, noi, a settembre, saremo lì, poi saremo comunque, sopra a Los Angeles. Però poi, ho visto delle aziende, che comunque, si sono spaventate, e hanno speso 15, 20 mila euro, per fare una sfidata in discoteca. Allora, questa è la realtà, di questo pezzo. Detto ciò, io a questo punto, mi sono detto, va bene. Allora, le aziende, quelle quali abbiamo iniziato un percorso, sono delle aziende, quelle che abbiamo portato, in quel mercato, con le quali inizieremo un discorso di business, con te, d'utenti, per aziende, che hanno, di fatto, iniziato un'esperienza explorativa, attraverso una città estremamente contenuta, che di fatto non c'è al costo, una città di rappresentanza costa molto meno, e che comunque possono, quindi, con noi, andare avanti, e quindi sviluppare un progetto, che sia poi di fatto un progetto commerciale, o un città industriale. Tutti gli altri, non lo so, auguri per loro, saranno a guardare, oppure avranno tanti soldi, io lo avuto, per poter poi comunque, come oggi succede, ma non soltanto gli Stati Uniti, sapete qual è il costo di Alta Roma, del PIN, sapete qual è il costo, comunque, di la loro elezione, di la loro emozione, tutti gli altri, si organizzeranno comunque, come vorrà. Noi comunque, ad oggi, anche per rispetto al lavoro che è stato assolto il PME, che comunque continua a fare, abbiamo deciso di interrogare fino al 10-12 di luglio, l'opportunità di candidarsi, ripeto, c'è un discorso comunque di valutazione, da tutta parte nostra, di quello che è la bontata, comunque che è prodotto, per deno a presentare, perché poi noi il nostro business, con questi signori, lo traduciamo chiaramente, in un apparentamento, che però ha un senso, se poi il prodotto è vendibile, altrimenti abbiamo soltanto stesso quattro, quindi lo hanno freddo comunque comunicazione, e stiamo a guardare che non è possibile. Però diamo comunque l'opportunità, in queste condizioni, ancora di candidarsi, ci preoccupiamo di andare a vedere, se ci sono eventualmente, due o tre aziende, che possano essere conferentate, in ogni concorrenza, sulle quali lo studiare, è un'organizzazione veloce, di marketing internazionale, in cui vende un'etichetta, dove si decide, dando comunque rilievo alla sovranità, di tutte le imprese, per cui che so, voi sapete che dolce e capanna, sono dolce e capanna, in cui parte dolce e capanna negli Stati Uniti, poi fa sei mesi, tu vendi dolce, vendi a capanna, come il mercato fa, per cui l'idea è quella, ad esempio, con un abattimento, un problema dei costi, perché su questo, siamo ancora più buoni, altro 25% del abattimento, sui costi, vendiamo due o tre aziende, complementari, realizziamo possibilmente due, per fare un'etichetta, condivisa, veloce, smart, quindi è, so, boh, pippo, bai mario, maria bai pippo, questa etichetta, comunque costruita, per il mercato statunitense, però, ognuna delle sue aziende, è presente, per la propria storia, quindi, per le proprie collezioni, partiamo, inizia questa avventura, abbiamo i distributori, abbiamo i buyers, vediamo che cosa accade, guardo questo prodotto, lo stesso è vicettivo, inizia un percorso commerciale, inizia le esportazioni, facciamo una, un'esperienza, un anno, dopodiché, queste aziende, che si sono fuse in matrimonio, potranno comunque decidere, se sviluppare, fare comunque business, mantenendo quel cappello, diciamo, condiviso, andare avanti, oppure, ognuno andare per la strada, questa è sostanzialmente, la formula, la strategia, tutto questo nuovo progetto, che potrebbe accadere, perché voi andate su internet, che vedete quello che abbiamo organizzato, a febbraio, di quest'anno, quando siamo partiti, con questa operazione, tutti ci prenderanno per matti, per matti, perché pensavano che comunque, non ce l'avremmo fatta economicamente, cioè, saremmo saltati, iniziamo a saltare, andate su internet, e provate tutto, poi andate nel sito, della Mercedes-Benz, e vedete quello che la Mercedes-Benz, è la prima, a mondo, come linea, e le show mix, comunque ha detto di noi, e delle nostre, e delle nostre attività, forse, sono un pochino, un pochino, per virgolette, duro, però, diciamo che dopo un anno, sono anche un po' stanco, e quindi, alla fine, faccio poi fatica, a fare tanti, tante cose, e quindi, dico le cose, quelle che sono, oggi come oggi, per il corpore, esiste comunque la rete, in tutti i sensi, che permette comunque, a chiunque, di andare a vedere, e soprattutto, e finisce a tanti altri, di dire che sono state, restate qua, grazie.